Super bene ragazzi qui tutto sotto controllo oggi siamo ritorno qui sul mio canale Oggi siamo in un nuovissimo video sulla serie sul fantacalcio Quinto episodio siamo a metà serie perché si finirà verso il decimo episodio penso Per poi continuare con altre serie sempre sul fantacalcio ovviamente E poi con l'inizio del fantacalcio i primi di settembre Quindi partiamo subito dal giocatore da evitare E io metto Lich Steiner perché? Perché con l'arrivo di Decidio e la Juve comunque sta continuando a trattare però Cancelo del Valencia Lich Steiner sarà in via di partenza oppure troverà pochissimo spazio Ma penso che comunque con tre terzini lui sarà il meno preferito Visto che comunque la Juve avrà fatto due grandi investimenti Perché comunque una 10-12 milioni per Decidio si parla di 20 milioni per Cancelo Non sono pochi E quindi la Juve preferirà far crescere due giovani giocatori Soprattutto Cancelo che è molto forte Più che far giocare un giocatore come Lich Steiner che ormai ha la sua età E quindi ha dato già quello che poteva dare alla Juventus Poi come scommessa da provare ho deciso di mettere Federico Chiesa La Fiorentina ha smantellato tutta la squadra Non c'è una conferma in questa squadra E penso che comunque non arriverà nemmeno in zona Europa La Fiorentina almeno chi non si continua a comprare Però giocatori buoni e non questi mezzi giocatori Perché ad esempio Veretù, Essayric, Vito Rugo Non sono grandissimi giocatori Ma ovviamente non sono nemmeno C'è questi giocatori molto ma molto scarsi E quindi penso che Chiesa sia l'unico che un po' si potrà salvare Quindi ve lo inserisco un po' come scommessa Perché dipenderà dalla stagione della Fiorentina Penso che lui quei golletti li farà Perché sarà titolare inamovibile E' l'unico forte che è rimasto comunque alla Fiorentina Dopo l'addio di Kalen Cioè se se ne andrà E Badel e Vesino Poi vabbè tutto il resto che già se ne sono andati Come Bernardeschi, Borcavalero eccetera Poi andiamo al giocatore al rischio da provare Ovvero Alessio Cerci Cerci è arrivato a zero all'Elas Verona Dopo tre stagioni davvero orrende All'Atletico Madrid dove giocava pochissimo Un po' impresto al Milan Un po' impresto al Genova Di qua di là E comunque ha sempre fatto male Secondo me Cerci vuole Vuole avere l'ultima grande occasione Della sua carriera calcistica E quindi vuole farsi Cioè avendo la sua ultima occasione Per la sua carriera calcistica Questo è comunque a una trentina d'anni Preferibile Cioè proprio lui si sarà messo in testa Di giocare bene Per comunque far vedere Che l'investimento comunque del suo contratto Perché mi sembra che Uno dei più pagati all'Elas Verona Non vorrei sbagliare Ma è tipo il terzo, quarto Comunque avrà un contratto buono E anche se l'Elas Verona l'ha comprata a zero Vuole far vedere che Vale la pena tenerelo in squadra E poi Cerci sappiamo che comunque È un giocatore che il suo lavoro lo fa Con le squadre di medio e bassa classifica E gioca abbastanza bene Quindi potrebbe essere uno dei quinto Sesto attaccanti da tenere Per far giocare quelle Poche volte O farlo O ottenerlo come panchinato In qualche situazione Poi passiamo alla conferma Rimaniamo in casa Juve E diciamo Gonzalo Higuain Higuain sarà una conferma Assolutissima All'età di 30 anni Per me è ancora Il migliore attaccante della Serie A Come l'ha dimostrato l'anno scorso Come l'ha dimostrato due anni fa Col Napoli Ovviamente ci sono gente come Belotti e Icardi Che fra qualche anno lo supereranno Ma comunque Lui ha anche la sua età Però per me sarà una conferma assoluta Visto che potrà fare sempre i suoi 20-25 gol Anche quest'anno E potrà Potrà fare anche gol molto ma molto importanti Segnando ad esempio Al Napoli Grazie Higuain Ti voglio bene Non è vero Segnando a squadre come Roma Milan eccetera Niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale se non lo siete già Di commentare Questa sera sta andando davvero Benissimo Di condividere Perché per farvi dire Anzi no no condividete Perché così I consigli Ve li tenete tutti per voi E non li lasciate ai vostri amici No niente Sto scherzando Condividete se volete Sempre ben accetto E vi ricordo che non c'è nessun problema Che è tutto sotto controllo Bella Bella